Musica Carissimi telespettatori, cari amici di Rete55, buon mese d'agosto. Oggi è la domenica 2, iniziamo un mese che per molti, io mi auguro per moltissimi, è il mese delle vacanze, per eccellenza, ma non è l'unico mese, so che molti sono già anche di ritorno, comunque viviamolo con due parole belle, uno il riposo del corpo e della mente e l'altro la ricarica. Dobbiamo ricaricarci perché sono tante le responsabilità che la vita ci riserva e questa sera vorremmo toccare un argomento che sta facendo molto discutere da Monsignor Russo, che è un segretario generale della CEI, la conferenza episcopale italiana, alla consulta delle aggregazioni radicali. Siate testimoni della speranza che scaturisce dal cuore che è innamorato di Dio. Questo è un bellissimo titolo. E il tempo che viviamo è un tempo in cui dobbiamo, come si suol dire, riaccendere la speranza. So che tanti, anche i miei fedeli, mi dicono che sono un po' delusi, un po' stanchi, un po' scoraggiati, perché purtroppo abbiamo ancora l'epidemia che sembra spegnersi, ma ha ancora dei focolai accesi. Poi non parliamo dell'epidemia come è diffusa nel mondo, dovremmo anche farci delle domande, davvero che la vita per tutte le persone è cambiata. Ecco, in questo allora le realtà ecclesiali, la chiesa di oggi, la chiesa anche di questo tempo estivo, vuole essere un segno di speranza. E la speranza, giustamente, dice Monsignor Russo, che prende un po' della sua relazione, si lega al mondo molto vasto che c'è nella chiesa cattolica, di tanta gioventù, ma anche di tante persone di buona volontà, anche adulte, che fanno parte di associazioni, movimenti, realtà in forte sviluppo, che viene chiamato un terzo settore a servizio della società, con contributi soprattutto sul piano, questo periodo anche sanitario, di volontariato, anche educativo, gli oratori, i centri estivi. Quindi pensiamo soltanto a una realtà che aggrega moltissimi bambini in questo periodo, lo scautismo, è una realtà splendida, di forte rilievo socio-educativo e religioso. Quindi l'importanza di essere una chiesa in uscita, una chiesa che attraverso tutto questo arcipelago, potremmo chiamarlo così, tante nuvole, tante isole, che non sono isolate, ma sono come davvero tante realtà che collaborando insieme permettono uno sviluppo anche sociale. Certo, c'è un'appartenenza che non significa esclusione, privilegio e tantomeno rinuncia, ma ricchezza. La ricchezza della chiesa oggi è questa grande intensità di associazioni, di forme nuove che si inventano, lo inventano, uno potrebbe dire è lo spirito che inventano, certo, sono suscitate dal Signore e sono risposte date dagli uomini. Quindi è il poliedro che Papa Francesco cita nella sua prima esortazione, l'Evangelii Gaudium, che riflette la confluenza di tutte le parzialità, che mantengono la loro originalità e che consentono alla chiesa uno sguardo qui, ora, alla storia. Ecco perché dobbiamo testimoniare la speranza. Cari amici che ci ascoltate, non teniamo i musi lunghi, non lasciamoci prendere dallo sconforto e dalla delusione. Leggevo in questi giorni le disposizioni emanate cent'anni fa, forse anche qualcosa in più, è stato nel 1918-19, quando c'era l'epidemia spagnola, aveva emanato allora l'arcivescovo di Milano, il cardinal Ferrari, e metteva al centro un valore, la prevenzione, come diciamo noi oggi. Diceva dobbiamo convivere con questa realtà, ma non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo combatterla. Parlava già allora di disinfestazione degli ambienti, di, non si usava la parola di igienizzazione, ma si usava la parola di prendere spesso i disinfettanti, l'alcol e lavarsi le mani, per dire, e via dicendo. Noi ci dobbiamo impegnare non solo a queste prevenzioni sanitarie, ma a essere costruttori di comunione. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa importante, vuol dire ad esempio cercare di essere insieme, di trovare nei territori, nelle realtà in cui si vive delle alleanze che consentono ad esempio una cosa molto importante, di tirar fuori il meglio di sé dalle persone. Il volontariato ad esempio è questo, la cultura del volontariato. E in mezzo a una pandemia che ha portato una ferita anche sociale, oggi c'è un'opportunità in più di servizio. E questa opportunità in più di servizio, rilevavano anche i vari responsabili delle associazioni che ha riunito Monsignor Russo, è quella di una sfida grande, sia quella della mediazione culturale, cioè andare verso gli altri, e dire amici, impegniamoci, io in mente quanto bisogno in questo momento c'è di servire le persone che vivono la difficoltà di un disagio economico dovuto a un'instabilità, vuoi nel mondo del lavoro, vuoi nel mondo dell'economia, vuoi in generale in tutte quelle che sono le situazioni socialmente parlando, a rischio. E allora più che mai la capacità del mondo cattolico deve essere quella di una visione anche di ecologia integrale, di uno sviluppo integrale, che vuole partire da proposte concrete. E qui ci si rifà a una delle grandi questioni del futuro, su cui il laicato non può essere lontano, che è l'umanizzazione della società. Come dicevamo prima, non basta, ecco, tutto quello che può essere il procedimento igienico-sanitario dettagliatissimo a protocollo. Questa è una prevenzione ed è sicuramente da utilizzare, non da lasciar cadere, come purtroppo a volte vediamo in questi giorni, anche perché il rilassamento estivo porta anche a un rilassamento di quelle che sono delle misure invece non solo opportune, ma giuste e doverose per tutti. E' evidente che il passaggio di chiave è proprio quello di una cultura capace di dare valore alle persone. Papa Francesco insiste che non ci devono essere persone di serie A e di serie B, non esiste la cosiddetta parte nobile e parte plebea, accusando un termine un po' romano d'antica Roma. E' evidente che c'è una sorta di rinnovamento sociale. e giustamente anche altre firme del mondo cattolico dicono che non può essere, soprattutto quello che oggi è il terzo settore, una cenerentola della vita sociale. Non c'è un capitalismo e uno statalismo. C'è un terzo settore fatto di associazioni, di progetti sociali, di quelle che sono più che mai le volontà di persone libere di associarsi, di impegnarsi, di essere presenti per dire io sono lì per dare una mano, per attività sociali. Io in mente in questo periodo, ad esempio, che abbiamo ultimato gli oratori estivi, il resto un po' in difficoltà quest'anno per le tante e complesse situazioni sanitarie, ma come ho visto tanti volontari prodigarsi per i più piccoli, farli giocare, farli stare insieme, fargli fare i compiti dopo la lunga pandemia, molti avevano perso anche l'abitudine a una regolarità nello studio. Ecco, è un volontariato, è un senso di servizio. Come è bello vedere che tante persone si prestano nel tempo estivo per gli anziani, per dire guardate, andiamo a farvi la spesa, non uscite con questo caldo, impegniamoci noi a venirvi a trovare, che se magari un po' di vuoto nel periodo delle vacanze. Agire per un bene comune che porta a dare dignità alla persona. Su questo, allora, anche la Chiesa Cattolica, noi stiamo svolgendo un'opera, diremmo di, prima di tutto, di tessitura culturale, di tessere, come si suol dire l'ordito che viene sempre di più rinforzato da quella che è la volontà di trovare collaborazione. Certo, il long down ha dato anche modo, rifletteva Mons. Russo con gli altri esponenti cattolici, di utilizzare quei media, quei social che avevamo un po' messo da parte. E possono essere ancora una grande occasione di crescita. ma anche però di imbarbarimento. Perché, attenzione, nulla può sostituire il rapporto umano. Il virtuale non può essere una sostituzione del reale, può essere semplicemente, diciamolo pure, un punto di riferimento in momenti difficili. Può essere quello che si suol dire, come abbiamo visto, un'alternativa a quello che è purtroppo una difficoltà a trovare un incontro, una comunicazione. Ma noi abbiamo bisogno di umanizzare, cioè di starci insieme. Certo, vedendo anche altre associazioni che erano venute a questi incontri, è emerso l'inizio di una fase che vuole essere chiamata oggi più che mai di impegno a scoprire i bisogni sempre più, anche nascosti, di un'umanità. Ad esempio, un bisogno che si rilevava, oltre a una solitudine che c'è nel tempo di oggi, è il bisogno di trovare punti di riferimento sicuri per potersi confidare. Mi diceva qualche professionista, nella parrocchia dove vivo, che mai come in questi mesi ha incontrato persone, i professionisti possono essere dal medico, che è comunque il professionista, l'avvocato, piuttosto che trovi magari quello che svolge un lavoro sul piano di consulenza, anche in questo periodo finanziario, piuttosto che fiscale. Tanta gente va oltre questa professionalità riconosciuta, sente il bisogno di parlare, di aprirsi, di trovare qualcuno di cui ha comunque un po' di fiducia, e di sentire una parola di incoraggiamento, di sostegno, spesso una sicurezza che dentro di sé hanno un po' perduto. Ecco, questo è sicuramente uno dei settori più invitanti per quella collaborazione allargata che è l'inizio di portare la speranza in uno sviluppo integrale. È evidente che l'appello che potrebbe essere il dire cari amici che ci ascoltate, adesso è il mese d'agosto, uno si riposa, ma magari con settembre un po' di volontariato non fa male. aprirsi a qualche associazione, non è detto che siano tutte le quali del mondo cattolico, anche nel mondo sanamente laico, attento ai bisogni, c'è in giro molto, ma non restiamo solo a guardare, a criticare e a dire tocca agli altri, tocca a ciascuno di noi. L'impegno è la solidarietà. Grazie di questo ascolto, buone vacanze, mi raccomando, riposo e ricarica per tutti e arrivederci a questo bel tempo d'agosto che sia davvero di pace e serenità per tutti.